Tre nuovi acquisti per la Zambelli Tecno Caravan Orvieto, cominciamo da Federica Cerbella, un inizio di campionato che vi ha visto protagoniste, sta procedendo tutto bene, a che punto siete? Allora, abbiamo giocato due partite, due partite che sono servite a noi per un po' rodare un pochino in gruppo e adesso vediamo cosa ci aspetta, a un piano cerchiamo di costruire un bel gruppo d'anno. A Mariana Gentili chiediamo invece chi sono le protagoniste, secondo lei, favorite della campionata di questa Serie C? Anna! Che si preannuncia molto equilibrato. Sì, ma guarda, già il derby, Ternana, Terni... Lo prossimo derby, Ternana-Orvieto sarà una bella battaglia. Sì, Ternana, Arz, San Feliciano, San Feliciano, poi gli stai con me. Senza sbilanciarsi troppo. Noi! Ovviamente! Spera, spera! Ah, ci spengono le luci! Mary Ricciardi, schiacciatrice! Sei l'ultima arrivata in casa orvietana, secondo anno per te in Umbria. Quali sono le tue aspettative? Aspettative, di far bene, di divertirmi, niente, insomma, magari anche, no, per me è un dirlo, ma, quindi divertirmi e far bene. Sei arrivata da poco, ma già ti sei ambientata ad Orvieto. Che clima hai trovato? Ah, molto fiestoso, gaio, frizzante, tutti gentili e molto disponibili. C'è un ottimo pubblico, sappiamo che vi segue, c'è grande entusiasmo, potrebbe essere questo uno stimolo in più per voi? Beh, certo, sicuramente si aspettano molto, forse anche troppo si aspettano da noi, però noi cerchiamo di giocare sempre a me, forse non c'è la tutta, ci seguono, ci vogliono bene, mangiamo, ci fanno da mangiare, quindi no, no, ci cerchiamo di soddisfare. Chiudiamo con una battuta, Ternana Orvieto, uno, X o due? X!